Benvenuti a nome di Biennale Democrazia, questo incontro a cui teniamo particolarmente perché arriva alla fine di due percorsi, processi per noi molto importanti, ci sono tante classi in sala delle scuole di Torino, due delle quali della scuola Santorre hanno anche adottato l'incontro quindi introdurranno il dibattito, arriva alla fine di un lungo percorso con i ragazzi, di uno dei percorsi formativi di quest'anno che aveva proprio il titolo Mostri, quindi è perfettamente in tema con l'incontro di oggi e arriva anche a compimento un altro percorso molto importante che grazie al Polo del Novecento stiamo facendo alcune realtà culturali in giro per l'Italia, in particolare sono in collegamento da Roma gli amici della Fondazione De Gasperi che ringrazio e che porranno delle domande tramite già da Giustetto, la nostra formatrice, ai relatori qui in sala all'inizio del dibattito. Ringrazio Alessandro Dallago e Adriano Zamperini e lascio la parola alla nostra amica Simona Forti. Grazie Buongiorno a tutti, grazie Massimo e benvenuti. Io sono molto contenta, non lo dico così tanto per dire, di presentare due scienziati sociali, diciamo così la loro etichetta così immediatamente identificativa che viene subito in realtà smontata perché sono scienziati sociali che fanno un lavoro molto importante in Italia, non fanno se non marginalmente e come strumento ricerca quantitativa e in questo senso oggi sono scienziati sociali atipici perché spesso le scienze sociali in epoca contemporanea si indirizzano soltanto verso la ricerca quantitativa. Loro cercano di dare un senso a quello che vedono, a quello che vedono intorno nelle loro città, nei luoghi che visitano, nel loro, ma anche nel loro tempo, no? Quello che Foucault avrebbe detto un'ontologia dell'attualità. E proprio perché sono scienziati sociali atipici la loro ricerca è contaminata da molte discipline, dalla filosofia, alla psicanalisi, in generale alla scienza della cultura, alla cultura cinematografica, alla letteratura, insomma una contaminazione ma una contaminazione altamente riflessiva e non solo pop, anche se si servono in alcuni casi della cultura pop. Per cui sono davvero particolarmente grata e contenta di essere tra Alessandro Dallago e Adriano Zamparini dai quali ho imparato molte cose. Alessandro Dallago, alla mia sinistra, ha insegnato, insegna forse ancora sociologia, è fortunatamente in pensione, è sociologo, ha insegnato sociologia a Genova, prima ha insegnato, è stato professore all'Università di Milano e anche a Bologna e io così definirei Alessandro un etnografo sociale se posso che usa molto spesso la filosofia e la cultura cinematografica e letteraria in generale. Ha scritto moltissimo, è stato l'importatore io direi in Italia tra i primi a importare il pensiero di classici che in Italia non erano conosciuti, parlo di Simmel, parlo di Anna Arendt, parlo di Jonas e questo facendo anche politica culturale nella casa editrice Il Mulino, di Bologna, per far affermare questi autori. Vi cito soltanto un libro a me particolarmente caro che è stato tradotto in varie lingue che è del 2004, attuale più che mai oggi, il titolo è Non persone, l'esclusione dei migranti in una società globale del 2004 e oltre a tantissimi, tantissimi altri testi sull'indifferenza, sulla crudeltà, quindi vedete che poi i nostri autori hanno vari punti d'incontro, citerei Populismo Digitale, è un libro molto intelligente, per nulla scontato anche rispetto alle varie vulgate giornalistiche che si leggono oggi sul populismo e sul populismo digitale. Il libro è uscito da Raffaello Cortina del 2017, quindi è assai recente, Populismo Digitale, la crisi, la rete e la nuova destra. E da ultimo citerei il libro, da cui anche prenderemo spunto per la discussione di oggi, uscito anch'esso nel 2017 presso il mulino Bologna, Eroi e mostri, il fantasy come macchina mitologica. Dunque, l'altro nostro ospite, Adriano Zamperini, insegna psicologia sociale all'Università degli Studi di Padova e è anche abilitato all'esercizio della psicoterapia. È direttore di un centro, secondo me, che lavora in maniera assai cruciale per i nostri tempi. Uno è il Centro Interateneo di Ricerca per gli Studi Interculturali e sulle Migrazioni ed è direttore di un master intitolato alla sicurezza urbana e contrasto alla violenza. È un master anche per la polizia, giusto? Per gli ufficiali di polizia. Ed è presidente della Società Italiana di Scienze Psicosociali per la Pace. Si è sempre occupato di psicologia sociale, soprattutto per quanto riguarda le atrocità di massa e la crudeltà e le dinamiche che occorrono nei rapporti tra vittime carnefici. Spesso, invece, osservando anche il ruolo di quei terzi che non vengono mai inclusi nella topologia classica della fenomenologia del male politico, diciamo così, che sono gli osservatori, gli indifferenti e a questi temi ha dedicato numerosi libri. Ve ne cito soltanto alcuni. e ovviamente è stato curatore per i Naudi di un grosso volume su genocidio e adesso non ricordo particolarmente il titolo, ma insomma. I libri che vorrei citare sono Banalità dell'indifferenza, Ambivalenza di un sentimento, non sempre a servizio del male, Psicoterapia e scienze umane. Un altro è La violenza collettiva e il G8 di Genova, Trauma psicopolitico e terapia sociale della testimonianza. E un libro importante uscito nel 2014, La bestia dentro di noi, Smascherare l'aggressività. E sul tema dell'aggressività, credo, si concentrerà anche nella giornata di oggi, seppure il tema dell'aggressività indagato da altre prospettive. Vi chiedo di unirvi a me nel dare il benvenuto ad Alessandro e a Adriano e poi passo la parola ad Alessandro. Grazie. Grazie. Va bene, allora buongiorno a tutti. La mia prospettiva è un pochino particolare, cioè io ho sempre avuto molta simpatia per i mostri, pur avendo la consapevolezza che i mostri non esistono, o meglio, i mostri non esistono in natura. Quelli che noi consideriamo, lo dico agli studenti che stanno studiando scienze, immagino come molti di voi, quelli che noi consideriamo mostri sono solo accidenti fenotipici, cioè quasi sempre specie che in qualche modo restano separate dall'asse principale dell'evoluzione, grazie a circostanze ambientali molto particolari. Mi viene in mente un delizioso mostricciattolo che si chiama Axolotl, che è una rubina di 20 centimetri, che assomiglia straordinariamente a un omicciattolo, a quattro zampette che sembrano anche due mani e due piedi, gli occhi grandi e una selva di, non di capelli, ma insomma di cornetti rossi che lo fanno assomigliare a un essere umano che è un essere assolutamente simpatico e buono, non fa male a nessuno, a chi viene esterminato perché in un lago vicino a città del Messico è considerato, insomma, nelle zone di questo lago una prelibatezza. Oppure agli animali in qualche modo esotici che catturarono l'attenzione di Darwin nelle isole Galapagos, insomma tutti questi che noi di fatto, voglio dire, sia per le loro sembianze particolari che per altri motivi, la nostra cultura considera mostri, in realtà sono semplicemente animaletti, non esiste l'idea di mostro in natura, esiste solo l'idea di varianza che fa sì che esistano specie, come dire, familiari, altre che non lo sono. I mostri sono una creazione squisitamente umana, ma di che mostri, in che senso sono una creazione umana? Sono una creazione umana perché sono per lo più, come dire, proiezioni culturali, poi Zamperini parlerà della parte interna di questa vicenda, noi per mestiere, non so come considerarmi, se un mezzo filosofo, un antropologo, eccetera, consideriamo in gran parte quello che succede dentro una sorta di scatola nera, ci occupiamo inevitabilmente di più di quello che succede fuori, ma per quanto succede fuori, cioè quindi la nostra vita associata e culturale, si può parlare di mostri quando alcune caratteristiche degli altri, vengono riassunte e organizzate in figure che acquistano un valore iconologico particolare. Allora, per essere molto chiari, la figura del mostro, come che è per lo più negativa, anche se ci sono, come dire, nella tradizione della letteratura occidentale, ci sono dei mostri simpati, sto pensando per esempio all'autore di favole, il culto di Licunti Basile, che parla di orchi, e molto spesso questi orchi non sono affatto i mangiatori di bambini cattivi, eccetera, ma sono figure un po' stravaganti, un po' sciocchine anche, che hanno delle figlie che magari sono carine e vengono impalmate da eroi delle favole, però si tratta per lo più di, si tratta di eccezioni. L'orco, la figura dell'orco è classica, è una rappresentante classica dei mostri, è appunto una figura che ha a che fare con l'inferno, la radice della parola orca è simile a quella di bocca, di urna, eccetera, indica una cavità che vi risucchia, come non so se vi ricordate il film dei primi di guerre stellari, Jabba the Hutt, questa specie di enorme bocca dentuta che stava in una sabbia e che era pronta a mangiare gli sventurati passeggeri o viaggiatori. Ebbene, queste figure sono creazioni in qualche parte letterarie e in qualche misura mitologica che però sopravvivono nella nostra cultura. La mia prima tesi è molto banale con questo per dire, ma poi cercherò di approfondirla, che la figura dell'orco come sintesi di ogni nequizia o nefandezza è del tutto speculare e complementare a quella dell'eroe che lo combatte, che è banale, come direte, ma vi faccio un esempio che non è conoscitissimo perché non si riferisce alle nostre mitologie tradizionali greco-latine, ma una mitologia nordica, che è il Beowulf. Il Beowulf è un singolare poema, forse l'unico poema occidentale, che mette al centro delle sue vicende la lotta tra chi? Tra un eroe, un enorme principe svedese e un mostro. Non ci sono molti poemi, soprattutto medievali, in cui al centro c'è questa lotta. Qual è il punto essenziale che si introduce un po' al relativismo delle due figure mostri-eroe? Ebbene, queste due figure, cioè uno è Beowulf, nel linguaggio dell'epoca doveva dire l'orso, il lupo delle api, Beowulf, e l'altro invece è Grendel. Grendel è una specie di enorme scimmione, un ghiuto, non viene descritto, ma insomma in qualche misura si capisce che è così, il quale vive in una foresta della Danimarca e ogni notte il rompe nella reggia del re danese e gli divore i guerrieri che deve essere gigantesco, oltre che è dotato di un appetito, di una digestione formidabile. Ebbene, l'idea è che di fatto le due figure sono assolutamente simili. Beowulf, l'orso, è talmente forte e grande che è in grado di combattere quest'altro personaggio, non solo lo affronta in una singolare tenzone che non armato ma nudo, lo uccide, gli strappa un braccio, eccetera. Alla fine, in questa poltiglia sanguinolenta in cui si conclude in gran parte questa storia, non si capisce chi sia più. Certo, uno vince e l'altro perde, ma sono entrambi molto simili, sono uno lo specchio dell'altro. E allora, la mia banalissima riflessione iniziale è questa, che per comprendere la natura dell'eroismo contemporaneo bisogna in qualche modo comprendere la natura dei mostri e viceversa. Le due figure sono molto simili. Chi oggi nel nostro mondo in cui tutte le informazioni convergono e si distribuiscono, eccetera, chi oggi si appella alla lotta contro il mostro e vuole che sia l'altro, che sia il migrante, che sia il criminale, eccetera, in realtà in qualche modo combatte contro una proiezione di se stesso, cioè non è altro che qualcuno il quale agita lo spauracchio della mostruosità per fini che poi se andiamo a vedere in fondo non sono troppo diversi da quelli da chi lo dimostra. Allora, in questa dialettica che assume oggi forme estremamente complesse, perché tenete conto che basta aprire un giornale per comprendere come persone spesso per esempio in gravi difficoltà umane, eccetera, vi vengono mostrate, si vengono mostrate come mostruose, come inquietanti, non è necessario che abbiano le corna o siano pelose o abbiano gli unghioni, basta che abbiano un colore diverso, si aggreghino in gruppi, eccetera, e inevitabilmente diventano minacce per il nostro modo di vivere, vengono presentati come minacce per il nostro modo di vivere. Ebbene, io nella mia ricerca che ora faccio in modo molto più libero perché ho meno impegni accademici, mi occupo esattamente di ricostruire alcune genealogie di queste figure e soprattutto di questa dialettica non del tutto evidente tra eroismo e mostruosità. Sono stato nei tempi, Simona? Bravissimo, chiedo pure perché non abbiamo una testa. Vado lì adesso? Buongiorno a tutti, grazie ovviamente per la presenza e per l'invito. Io mi riallaccerei all'assist che Alessandro poco fa mi ha dato quando ho parlato del mostro come proiezione. E sapete, dalla presentazione io sono un psicologo sociale quindi mi occupo non solo della componente manifesta ma anche di quel che si presume sia l'interiorità degli esseri umani. E nel fare questo sono abituato a guardare il mondo dal basso quindi stando fianco a fianco delle persone nei diversi contesti della propria esistenza perché diventa questa dal mio punto di vista una prospettiva molto informativa. e io inizierei il mio discorso con mettendo davanti le conclusioni proprio riallacciandomi a questo discorso sulla proiezione di poco fa e direi che il mostro ci dona la nostra normalità nel senso che il mostruoso diversamente inteso perché ovviamente la storia della scienza che studia i mostri è lunghissima e molto variegata però quello che su cui vorrei infilare in qualche modo la mia la mia analisi è quel mostro che spaventa e quindi oggi si parla moltissimo di una società insicura impaurita e il tema appunto di ciò che spaventa è ovviamente legato al mostruoso sappiamo che storicamente il mostro è un misto da molti punti di vista secondo molte tradizioni culturali per cui è una mescolanza tra regno animale e regno umano e credo che se ragioniamo attorno ad alcuni contributi che ci vengono offerti dalla narrativa ad esempio possiamo cogliere pienamente come noi pensiamo oggi ciò che è mostruoso all'interno dell'invisibilità della nostra interiorità e come ciò che andiamo a costruire essere dentro di noi poi viene proiettato sull'esterno nel confronto del capo espiratorio di turno nel confronto di chi pensiamoci minacci ma credo che questa operazione e l'immagine che abbiamo costruito dell'altro che ci spaventa ci parla e ci restituisce ciò che per noi è un elemento di normalità io ho una passione sfrenata per il gotico in tutte le salse dalla musica rock country gotico la mia passione fino a tutta la narrativa di stampo gotico se prendiamo alcune opere non so pensate Frankenstein il mostro per eccellenza e c'è un passo in questo grandissimo romanzo che rende conto e anticipa tutto quello che sarà poi la caratteristica decisiva dei secoli a venire e guardate è il modo con cui ancora noi oggi stiamo pensando perché è molto importante che noi riflettiamo sul mondo che abbiamo messo al mondo perché attraverso questo tipo di costruzione che poi noi ci orientiamo in questo mondo il mondo è sempre pensato da qualcuno e noi attraverso un'opera di pensiero che ovviamente trova sedimento oggi soprattutto anche nel mondo delle scienze ci muoviamo di conseguenza e c'è un passo molto bello del Frankenstein quando a un certo punto l'artefice di questo mostro riflette e comincia a pensare che questo mostro in qualche modo è il suo vampiro che è emerso che lui ha fatto uscire comincia a parlare di uno spirito che ha fatto uscire dalla tomba ed è uno spirito che va a distruggere ciò in cui lui crede in questo piccolo passaggio del Frankenstein c'è come dire l'anticipo di una tradizione lunghissima che troverà a mio avviso in un romanzo dottor jekyll e mister hyde che conosciamo tutti dove si comincia a trasformare e a costruire un'idea di interiorità tutta giocata su una contrapposizione natura e cultura in cui sostanzialmente si ribadisce che la natura prima è la bestia poi c'è la civiltà e quindi sapete benissimo che nel romanzo di Stevenson c'è questa sorta di gioco pericoloso con cui l'essere civilizzato come dire si inoltra in ciò che è antico in ciò che è primitivo in ciò che è primordiale c'è chi ha letto il romanzo e credo tanti una sorta di ebrezza perché tocchi con mano un senso di desiderio di vitalità che spesso in qualche modo è spenta dalla vita civilizzata però sappiamo benissimo che questo tipo di gioco è un gioco pericoloso che finirà tragicamente perché appunto la parte negativa poi avrà il sopravvento su quella positiva qui c'è tutto il grande ammonimento mostro e anche ammonimento etimologicamente quindi l'ammonimento del non si può scherzare con la parte bestiale mostruosa dentro di noi e quindi serve prendersi cura di quella parte cosiddetta positiva civile che tiene al guinzaglio la bestia dentro di noi ora questo modo di argomentare è un modo molto importante lo troviamo espresso benissimo in questo romanzo di fino a 800 metà 800 fino a 800 perché anticipa tutta la tradizione di pensiero del 900 e comincia in qualche modo a introdurre l'idea che il mostruoso è invisibile si nasconde e quindi va scovato non a caso e qui dico ancora due battute poi mi fermo non a caso il grande la grande fortuna che avrà l'antropologia criminale di Lombroso che oggi sta tornando in auge anche questo un segno del nostro tempo è proprio il tentativo di rendere visibile l'invisibile cioè di trovare un aspetto un aspetto somatico che permetta di capire il mostro interiore che c'è e quindi l'attenzione alle fattezze somatiche io sono un grande lettore di gialli quando leggo Agatha Christie che descrive i delinquenti sembrano dei ritratti che escono appunto dalle pagine di Lombroso come se il Soma fosse portatore di quell'attavismo primitivo che sempre resta dentro di noi e la cosa fondamentale è che se non c'è attenzione se non c'è investimento se non c'è una tenuta da un punto di vista culturale attorno a questa bestia interiore c'è la catastrofe c'è il caos c'è la mostruosità che emerge questo è una narrazione ancora oggi che sottotraccia ci caratterizza è una narrazione falsa per cui questo è importante aver ben presente ma è la narrazione che ancora in qualche modo oggi ci condiziona nel modo con cui pensiamo la sicurezza e l'insicurezza allora io prima di passare la parola a voi e lasciare spazio alle vostre domande così vorrei intromettermi con un po' di considerazioni disordinate e chiedere ai nostri ospiti se risuonano all'interno del loro discorso ovviamente parlando delle commissioni tra scienza letteratura mostri eccetera il primo pensiero va alla nascita del razzismo da molti da molti manuali considerato come una delle tra virgolette degenerazioni di un atteggiamento scientifico moderno che nasce e che è comunque votato al progresso dell'umanità di per sé il progetto scientifico che sul proprio cammino inciampa ad un certo punto e devia quindi la scienza che per un certo periodo ha tradito se stessa ecco ora io ho lavorato anche sul razzismo e sulle componenti invece più filosofiche più culturali del razzismo e non ho mai trovato nemmeno nel cosiddetto razzismo classificatorio non ho mai trovato nulla di neutrale ma neanche in prima apparenza quella che può sembrare più semplice poi l'ho sempre trovato molto moralizzante da sempre beh moralizzante essenzialistico anche nelle sue versioni più tecniche e scientifiche come se fosse l'eredità di un eterno dualismo mai superato anche quando il razzismo invece si presenta come la cultura scientifica che vuole andare al di là del dualismo tra anima e corpo per esempio ma io l'ho sempre trovato di un essenzialismo e di un ipermorale diciamo così per cui in realtà la colpa non è mai solo del corpo e delle sue fattezze di come deviano da una norma fisica perché poi il razzismo si vuole presentare pensiamo appunto all'ombroso c'è una norma una normalità ci sono le devianze le devianze rappresentano tutta una scala di comportamenti fino al comportamento criminale ecco io credo che appunto questa mostruosità sia sempre in realtà anche stata il risultato della corrispondenza di un'anima malata nel razzismo non è mai stata solo classificata come tale qualcosa che ci spaventa ma come pensate a Platone nella Repubblica quando parla dell'anima del tiranno cioè c'è una sorta di misto di mostro è proprio descritta come mostruosa perché a parti animali a parti umane in lotta tra loro e Platone descrive proprio fisicamente il tiranno come qualcosa che mostra nel proprio corpo questa lotta interiore questa deformità ecco l'altra cosa collegata che mi veniva in mente quando Adriano parlava del fatto che ad un certo punto nella letteratura nella letteratura che appunto si contamina con la scienza viene data per scontata viene data per scontata la contraposizione natura cultura e in qualche modo anche se non sempre esplicitamente viene dato il primato alla bestialità e questo in tutti poi c'è chi riesce a curare la propria bestialità con l'ogos o con l'educazione chi invece ha una bestialità che sopraffa l'ogos e va scoperta per disinnescare la pericolosità di questa bestialità ecco mi chiedo se il processo di interiorizzazione di questo modello per cui ogni singolo è attraversato da questa separazione natura e cultura in epoca moderna tardo moderna non sia appunto dovuto a un individualismo di una cosa di un'individualizzazione di una separazione che c'è sempre stata nel mondo antico si dividevano coloro come gli schiavi che come Aristotele diceva erano strumenti animati ma insomma non pienamente umani e invece coloro dotati di logos che potevano essere educati allora mi chiedo se questa spaccatura antica ad un certo punto viene invece raccordata e spinta dentro ad ognuno scusate ho preso anche troppo tempo come moderatrice prego tu vuole io penso che le mosse iniziali del razzismo quindi mi perdonate l'orribile neologismo della mostrizzazione insomma della trasformazione di qualcuno o di una categoria di esseri umani in mostri avvenga attraverso due mosse essenziali per esempio pochi lo ricordano ma l'idea di razza in Europa prima ancora che come ha mostrato Foucault in bisogno difendere la società prima ancora che un autoriferimento alla superiorità dei germani sui celti sui romani eccetera queste mitologie come dire che poi produrranno il razzismo eccetera la prima idea di razzializzazione mostrizzante scusate è orribile quello che dico ma l'idea è quella sapete che riguarda riguarda gli irlandesi la prima il primo esempio di bestie umane non so sono gli irlandesi non sono i protestanti inglesi che durante la conquista dell'Irlanda nel XVII secolo con Cromwell di fronte alla resistenza dei contadini irlandesi eccetera trasformano le vittime poi di una sorta di pulizia etnica del tempo in perché perché si cibano male perché fanno troppi figli perché non si lavano perché vivono nelle campagne in condizioni subumane come si dice c'è sempre in origine una differenziazione di tipo legata moltissimo all'idea di guerra allora Simona ricordava il caso degli schiavi la cosa interessante è che gli schiavi nel mondo greco antico potevano essere barbari ma anche greci che quindi parlavano avevano la stessa cultura parlavano o la stessa lingua o comunque lingue non troppo lontane che per il solo fatto di essersi arresi e quindi di non essersi fatti ammazzare sul campo di battaglia perdevano la loro umanità e quindi venivano stigmatizzati come come strumenti che vuole dire come animali nel senso che nel mondo per Aristotele lo strumento e così sarà nel mondo romano non c'era una grande differenza tra un carro e una beuna un bue e uno schiavo erano strumenti con grado diverso di utilizzabilità uno appartenente al mondo degli artefatti e gli altri due al mondo dei viventi ma in un certo senso erano quindi questo è il primo punto essenziale cioè la trasformazione dell'altro in mostro in bestia in tutti i significati del termine che potevano andare dalla possibilità di sterminarlo di schiacciarlo di ucciderlo oppure al tempo stesso di averne paura partivano da questa inferolizzazione di tipo squisitamente sociale che poteva essere frutto della guerra o di una conquista la seconda mossa e qui poi sarò dopo mi fermo subito la seconda mossa essenzialmente è la identificazione di questa inferiorità in caratteristiche invarianti quasi sempre legate appunto la naturalità o un'idea di natura che del tutto come dire immaginaria di natura che i forti quelli che si considerano i migliori i bianchi eccetera eccetera attribuiscono agli altri contemporaneamente tipico del mostro non solo fare questo è un aspetto un po' stravagante su cui vi chiedo di riflettere un momento non solo come minaccia ma anche come oggetto di fascinazione perché l'esempio banale che posso farvi è quello del film che sicuramente molti di voi hanno visto la forma dell'acqua in cui il mostro immagino che metà l'avranno visto in cui il mostro marino allora storia fulminea delle origini di questo mito negli anni 50 e nel 51 uscì un film divertentissimo che si chiamava il mostro della laguna nera in cui una spedizione di scienziati americani va in Amazzonia e scopre questa specie di uomo pesce fatto a forno di uomo ma vivente nella laguna il quale si innamora tra l'altro a cui piace moltissimo una delle scienziate che viene in una celebre sequenza si vede la scienziata che nuota in costume bagno e il mostro che le nuota sotto insomma l'esempio è abbastanza oro e nel film poi il mostro viene ferito in puntate successivi verrà catturato esposto in un acquario 50 anni dopo anzi 60 anni dopo del toro cosa ne fa? ne fa invece di un oggetto di fascino viene salvato dalla protagonista dai cattivoni che sono gli scienziati la CIA le solite storie e alla fine si prende la bella bruttina che poi non è bella insomma la donna normale e se la porta a consigli degli abissi la domanda è e questo è l'aspetto un po' stravagante della vicenda ne esce peggio il mostro antico o quello contemporaneo? in un certo senso il mostro antico era inquietante ma era affascinante e quindi era qualcosa con cui la cultura del regista eccetera si confrontava nella versione questa è la mia opinione se non l'altra nella versione contemporanea che è molto molto bonista invece il mostro che cos'è? è semplicemente uno ridotto alla nostra natura perché si innamora della donna se la porta negli abissi e lì non so vivranno in una caverna faranno dei mostriciattoli se la vedranno tra loro ma il punto è che in qualche modo in questa seconda versione apparentemente più positiva apparentemente più buona più rosa il mostro viene demostrificato e contemporaneamente però l'idea di alterità assoluta si sgretola e il mostro non diventa più un mondo di mostri ma di buoni sentimenti che cosa sia peggio ma lascio a voi decidere sono una battuta seguendo questi passi in qualche modo fin qua tracciati è evidente che quando si parla del tentativo di identificazione bisogna collocare questo tipo di processo dentro un altro passo che è decisivo che è l'evoluzionismo potremmo dire anche un uso dell'evoluzionismo perché poi ci sono tante forme di evoluzionismo e soprattutto un passo che viene sancito attraverso un primato che viene attribuito riconosciuto socialmente le scienze quindi se andate a rileggervi il dottor Jekyll e mister Hyde noterete noterete che la frattura che si genera tra la parte bestiale interna rispetto alla parte civilizzata non è un'entità soprannaturale è la chimica è una soluzione chimica che rende solubili i confini tra la bestia e l'uomo civilizzato quindi lo scrittore scozzese è già tutto dentro il mondo a venire che sarà un mondo come dire solcato dal primato del sapere scientifico che in qualche modo va a definire tutta una serie di coordinate non a caso il razzismo si utilizza la scienza cioè il razzismo per fondare se stesso non usa il mito non usa altre categorie culturalmente disponibili usa la scienza cioè se vi capita per curiosità di andare a leggervi i primi scritti pubblicati sulle riviste scientifiche fino circa agli anni 20 del novecento solitamente erano ricerche fatte da nordamericani cioè noi italiani noi italiani risultiamo inseriti in una subcategoria nel percorso evolutivo sono ovviamente costruzioni che venivano fatte fortemente in modo stereotipato attraverso un canone di normalità che diventa attenzione normatività e quindi camicia di forza a cui tutti devono sottostare pena l'esclusione e diventa il metro con cui gli esseri umani vengono misurati noi italiani siamo stati misurati nei primi anni del novecento da un metro di matrice anglosassone con un certo tipo di costruzione culturale che ci poneva in una come dire graduatoria di mezza classifica oggi sono di moda le classifiche sui vari paesi noi negli anni del novecento eravamo a metà classifica quindi è evidente che il grande tema dell'interiorità e della sua identificazione è ovviamente legata al grande tema del controllo al grande tema della gestione della cosa pubblica sono i grandi apparati dell'amministrazione che con l'ottocento inizia ma che con il novecento troverà piena compiutezza che serve identificare classificare pensate al cui questo strumento che misura l'intelligenza che usiamo tutti ormai con una banalità totale sapete qual è il momento genetico che lo mette al mondo è il momento in cui in Francia Binet si trova al cospetto quei problemi che ha nelle classi con gli insegnanti perché dentro le classi comincia ad essere un insegnamento di massa quindi serve l'obbligo scolastico quindi gli insegnanti si trovano di punto in bianco in classe con ragazzi che hanno otto anni quattordici anni dodici anni e non sono che pesci pigliare inizialmente il cui nasce come strumento come strumento per aiutare gli insegnanti con quale concetto costruendo un'idea che è l'età mentale che non esisteva prima si inventa l'età mentale per stabilire un certo livello di competenze di capacità di maturazione che i ragazzi avevano in funzione di un aiuto poi questo tipo di strumento verrà usato come un metro ideologico di base razzista per definire chi era più avanti e chi più indietro e quindi venne usato per giustificare un certo tipo di politiche colonialiste ma inizialmente uno strumento che aveva una funzione di servizio nell'ambito scolastico e quindi è evidente che nel momento in cui io riesco attraverso la scienza a come dire costruire una narrazione che si impone a livello sociale sul fatto che dentro di noi c'è una sorta di bestia primitiva che ci fa fare cose nefande è evidente che tutto questo giustifica tutto quell'apparato di controllo quell'apparato di repressione che permette di fare qualche cosa su gli esseri umani ovviamente utilizzando le categorie della pericolosità le categorie della sicurezza collettiva ma quello che è importante in tutto questo come dire discorso attorno alla componente del mostruoso è che in qualche modo si intreccia fortemente con quella del potere e quindi con quella anche dell'organizzazione della vita collettiva di un'ultima domanda a cui chiedo di rispondere brevemente così poi vi do la parola ecco abbiamo parlato di di mostrizzazione se si può dire di mostri come rappresentazioni di figure della della alterità che in certi casi provocano anche fascinazione ma per lo più servono come immagini sulle quali proiettare inimicizia aggressività eccetera a me pare che su questo ci sia e qui sono molto imprecisa e molto così grossolana anche che però ci sia una spaccatura dovuta proprio alla nascita delle scienze della vita come sottolinea Foucault ma su qualcosa che Foucault non indaga mai intenzionalmente che è quello dell'immaginario collettivo ovviamente per scelta non indaga l'immaginario collettivo ma mi sembra che non sia del tutto irrilevante perché se la figura dell'alterità come bestia come mostro o a volte come bestia a volte come mostro precedente alla nascita delle scienze della vita era la rappresentazione di una bestia feroce di un animale aggressivo feroce ma come dire in qualche modo oltre l'umano perché più forte più potente era il leone era la tigre era un animale comunque con una sua dignità perché dotato di forza e dunque con un suo tipo di soggettività diciamo così la mostruizzazione animalizzazione bestializzazione post scienze della vita si nutre di un immaginario come tutti ben sapete ancora di cui ancora pullulano gli immaginari contemporanei di animalizzazione come invece subumano come parassiti come agenti infettivi come qualcosa che non si vede che deve essere andato così a cacciare tirato fuori dagli angoli con l'immaginario della disinfestazione eccetera e dunque totalmente privi di una soggettività perché sono seriali magari sono pericolosi non meno pericolosi della ferocia anzi di più perché non vengono identificati facilmente sono sotto uomini sono seriali e privi di soggettività allora la provocazione ultima è in che mostruosizzazione animalizzazione bestializzazione vive il nostro immaginario contemporaneo il problema è secondo me la prossimità cioè io sono totalmente d'accordo il mostro classico che sia l'idra che sia il minotauro o che sia quello che volete o che sia il Grendel che viene combattuto dall'eroe svedese eccetera eccetera è qualcosa di in origine talmente al di là della portata umana che può essere oggetto contemporaneamente di lotta d'esecreazione ma anche di culto nel nostro mondo invece il plan del mostro è che è troppo vicino è troppo prossimo a chi lo definisce un esempio abbastanza banale voglio dire ma io adoro usare questi esempi di questa trasformazione è in King Kong nell'isola sperduta al di fuori e ignorata dalle carte c'è lo scimmione non si capisce poi chi l'abbia generato insomma lì sono complicazioni a cui gli abitanti primitivi dell'isola attributano un culto nello stesso momento in cui ne hanno paura arrivano gli uomini bianchi che se ne fregano altamente dei culti di queste cose lo catturano ne fanno un oggetto a disposizione e lui si vendica vabbè lasciamo stare la vendetta e distruggere le città però l'idea di fondo è che nello stesso momento in cui il mostro come essere alieno totale è vicino a noi e si insinua nelle nostre case pensate so che in questi casi non dovrebbero mai fare questi riferimenti e me li faccio lo stesso pensate a tutto il dibattito oggi sui migranti sulla legittima difesa eccetera che ruota intorno a questo al fatto che i mostri sono tra noi o perché vengono da fuori e si insinuano nelle nostre case e nessuno lo dice ma insomma anni fa lo si diceva portano malattie anzi lo si dice ancora portano malattie orribili e minacciano come dire la salute e l'integrità delle nostre donne perché questo è poi quello che c'è nel fondo in tutta questa vicenda ma perché perché sono prossimi nessuno se ne occupa nel famoso slogan aiutateli a casa loro che è veramente stravagante perché nessuno l'aiuta a casa loro c'è l'idea che tanto stanno da quella parte per cui sono lontani e non minacciano le nostre donne e non minacciano la nostra sicurezza quindi è la prossimità come diceva un filosofo a cui io sono molto legato che era Georg Simmel il problema dello straniero e qui lo straniero funziona come epitome cioè come sintesi perfetta di qualunque mostruosità non è tanto che viene tra noi ma che viene tra noi non sappiamo quanto se ne andrà questo è il punto essenziale quindi la come dire la presenza del mostro si moltiplica penetrando attraverso le porte del nostro mondo vive tra noi non sappiamo questa è come dire la logica soggiacente non sappiamo quando se ne andrà altera il nostro modo di vita e questo poi spiega abbastanza bene insomma che questo tipo di considerazioni possono spiegare poi tutta una serie di come dire produzioni immaginarie di conflitti in cui vive il nostro mondo e questo è veramente interessante questa cosa perché ci allontana molto dalla presunta razionalità in cui e razionalizzazione in cui il nostro mondo viverebbe pensate scusate solo alla Brexit adesso voi direte non c'entra nulla ma dietro la Brexit c'è l'idea che gli europei il continente in qualche modo produce un'estranità talmente che non sarà come degli irlandesi nel XVII secolo però insomma più o meno e questo va contro persino gli interessi di molti che invece scoprono amaramente che con la Brexit invece le loro condizioni peggioreranno questo significa che il mondo immaginario in cui i mostri proliferano sta in qualche misura facendo agio vincendo sconfiggendo il mondo in cui dovrebbe essere secondo i sociologi antichi governato dalla razionalità provo a risponderti aggiungendo un tassello visto che appunto Alessandro già ha detto cose condivisibili direi che oggi una delle forme di mostruosità che sta caratterizzando il nostro tempo è l'attribuzione di caratteristiche umane a entità biologiche pensate a una una forma linguistica che ha avuto un grande successo il gene egoista e noi oggi stiamo se non stiamo attenti stiamo assistendo ad una narrazione che è una forma di divulgazione perché il gene egoista non esiste sia chiaro cioè se voi parlate con degli esperti di genetica vi diranno bisogna distinguere tra il gene a livello molecolare eccetera eccetera dal gene teorico perché questo grande libro che ha avuto un grande successo e che in qualche modo sta plasmando il nostro immaginario il fatto che ci sia un'entità biologica che prova dei sentimenti cosa mi lascia molto turbato no? come se ci fosse un gene che prova amore e odio che è egoista che fa i calcoli e dice qualcuno sta vivendo in un stato di emergenza faccio un calcolo se aiutarlo o meno cioè noi stiamo in qualche modo personificando e questo è come un processo mostruoso delle componenti biologiche che hanno delle conseguenze gigantesche gigantesche rispetto poi al modo con cui noi organizzeremo la vita collettiva e spieghiamo la vita collettiva perché a questo punto se abbiamo detto che uno dei lasciti del novecento è l'idea di una bestia dentro di noi e quindi va ammaestrata il fatto che questa bestia oltre che essere aggressiva e anche carognosa perché pensa solo per sé ne discende che la vita collettiva è fatta di soggetti singoli individui egoisti e quindi vuol dire che la condizione prima dell'essere umano è l'egoismo e tutto quello che viene dopo è quell'aspetto culturale che possiamo utilizzare per mettere un freno a questa entificazione biologica tutto ciò è mostruoso perché in qualche modo è lontano anni luce dalla vita concreta degli esseri umani però questo tipo di narrazione diventa poi strategicamente importante perché ci viene anche detto che abbiamo l'inclinazione naturale di avversità verso il nemico una volta io ho fatto una verifica negli studi di psicologia evoluzionistica e ho scoperto grazie anche ad altri autori ovviamente che mi hanno preceduto che questi report scientifici che vengono amplificati ormai tutti i giorni anche sulle grandi pagine dei quotidiani nazionali quindi entrano nel nostro immaginario pensate al genere dell'infedeltà al genere dell'immigrazione eccetera eccetera al genere dell'omosessualità e così via tanto è produzioni mostruose da questo punto di vista è evidente che analizzando appunto questi report questi articoli ho scoperto che erano zeppi di nemici cioè ogni volta che si raccontavano episodi sia del mondo animale soprattutto del mondo animale era zeppo di nemici la cosa strana è che non trovavo mai un riferimento agli amici cioè è evidente che si sta creando un mondo mostruoso raccontando una storia che poi va a giustificare il fatto che io poi tengo a distanza chi è diverso da me perché se io sono predisposto in senso biologico a tutelare me stesso i miei cari la mia famiglia e a rifugire dall'altro dal diverso da chi in qualche modo è visto come una minaccia voi capite che sto mettendo una solida base di giustificazione nei confronti di tutta una serie di nefandezze che vengono prodotte a livello culturale e questo credo che sia uno dei processi mostruosi che attualmente abbiamo in corso ringrazio moltissimo Alessandro e Adriano e adesso do la parola al pubblico e a come vi siete organizzati perché so che le classi hanno preparato e anche organizzato facciamo prima le classi Buongiorno a tutti sono Giada Giustetto ho avuto il piacere di seguire una buona parte delle nostre classi sul percorso sui mostri che adesso vi dirò qualcosa però chiamo qui con me i ragazzi della terza B e quinta E del liceo Santorre di Santa Rosa di Torino loro hanno adottato l'incontro quindi hanno diritto di siamo anche in collegamento con la fondazione De Gasperi come ha detto prima Massimo la scuola di formazione politica e loro ci possono vedere noi possiamo vedere loro attraverso quello schermo quindi le loro domande compariranno lì dietro allora io dico soltanto due parole sul percorso che abbiamo fatto con i ragazzi nelle classi e poi partirei dalla fondazione De Gasperi per arrivare alle loro domande perché ne hanno preparate parecchie per entrambi allora nelle classi abbiamo svolto un percorso sui mostri molto è già stato detto in questo incontro siamo proprio partiti anche da alcune delle suggestioni che sono state citate oggi per esempio abbiamo visto insieme degli spezzoni della forma dell'acqua abbiamo riflettuto sul sul tema del doppio sull'incontro col mostro sulla proiezione di noi nella figura del mostro abbiamo fatto un escurso storico a partire dai mostri per eccellenza esclusi dalla storia quindi manicomi per citarne sono alcuni la caccia alle streghe i freaks e li abbiamo attualizzati quindi abbiamo riflettuto con i ragazzi su quali tipi quanti e quali tipi di caccia alle streghe vi siano oggi su chi siano oggi i nuovi dove siano i nuovi palcoscenici perché una volta c'erano gli spettacoli dei freaks adesso youtube per esempio è considerato da molti un contemporaneo palcoscenico quindi una nuova forma di freak show i ragazzi hanno lavorato molto bene sui loro mostri interiori e quindi sono emersi come abbiamo visto nel bellissimo video reportage realizzato spero che siete arrivati puntuali in sala della terza e del liceo spinelli alcuni dei mostri che sono stati che sono emersi all'interno dell'animo più recondito dei ragazzi sono proprio la paura della solitudine la difficoltà della gestione del rapporto con la rabbia le relazioni interpersonali e infine abbiamo ragionato appunto sul tema del doppio e su nuove forme nuove anche antiche forme di violenza ma prima ci colleghiamo con la fondazione De Gasperi loro sono anche partiti su leggo io loro sono anche partiti da alcuni spunti dei vostri testi e poi vi diranno allora la fondazione De Gasperi da Roma chiede come poter usare i social network senza farsi fagocitare dai molti mostri che vengono veicolati tramite essi come potersi vaccinare contro i mostri che vengono creati nel dibattito pubblico e infine ce n'è una terza che se non arriva ce l'ho qua perché sì perché la propaganda sui mostri attecchisce così rapidamente in così tante persone se magari volete iniziare da queste preferite raccoglierle tutte perché sono già abbastanza corpose ma dal mio punto di vista che è quello di osservatore diciamo delle esteriorità cioè al di fuori della scatola nera la questione come proteggere i mostri come vaccinarsi eccetera è legata fondamentalmente a questo fatto che per la prima volta nella storia umana credo con i social network chiunque può godere di quella che Andy World chiamava la possibilità di essere famoso almeno per 15 minuti e quello è un po' il meccanismo essenziale per cui chi partecipa inevitabilmente a quello viene attratto da che cosa viene attratto dalla possibilità finalmente di dire quello che normalmente non può dire perché è protetto anche dall'anonimato o anche dal fatto che la sua faccia non entra in gioco quando i famosi hater quelli che usano l'odio che quindi ecco è lui il responsabile bastardo scurate non posso fare esempi ma insomma chiunque di voi se frequenta facebook e dintorni capisce quello che voglio dire lì non si tratta tanto di vaccinarsi dal moto ma probabilmente di proteggersi da se stessi perché è la possibilità di poter dire quello che si vuole questo è l'aspetto sinistro e al tempo stesso affascinante di queste vicende tu in quel momento lì quando sei di fronte al computer anche se sei individuali possono rintracciarti tracciarti eccetera eccetera nessuno ti vede nessuno vede la tua faccia usa un nickname quindi ti puoi permettere di sparare addosso a chiunque e quindi tirar fuori io ho una uso la facebook esclusivamente a fini pubblici non racconto me le mie vicende personali non mostro neanche le immagini dei miei amatissimi gatti perché sono fatti miei però lo uso come una specie di blog e spesso dico quello che penso su questioni i commenti che mi riguardano certe volte io li prendo li metto da parte poi altre volte li pubblico anche sono interessanti che vanno da bastardo fino amico dei negri queste cose qua che sono è impressionante ma qual è la radice di tutto questo è il senso di impunità che dà il web questo è il problema quindi più che vaccinarsi direi si tratta di appellarsi a quello che di umano ovviamente hanno anche i peggiori che lavorano sul web e riflettere e guardarsi allo specchio io quindi provo a rispondere a qualche altra domanda così ce le dividiamo facciamo prima sul tema del che sono un po' legati i mostri del dibattito pubblico e perché attecchisco con facilità allora sicuramente la capacità di dislocare su qualcuno che possibilmente è qualcuno che ha delle differenze da noi c'è tutto la logica del razzismo non inventa le differenze usa le differenze cioè le razze non esistono ma il razzismo usa delle differenze che converte in minorità in deficit e le usa quindi è evidente che questo tipo di di propaganda ha la capacità di essere rapida perché l'aspetto ad esempio somatico è un aspetto facilmente percepibile io che ho fatto degli studi con i migranti a Padova mi sono reso conto che tra migranti che avevano la carnagione chiara soprattutto che dei paesi dell'est e i migranti che ad esempio venivano dall'Africa c'erano delle strategie di resistenza alle pratiche di esclusione molto diverse perché la pigmentazione della pelle come ti dà uno svantaggio rispetto ad alcune situazioni non a caso ad esempio c'è un fenomeno molto allarmante tra gli adolescenti nelle banlieue francesi che è quello appunto di acquistare acidi che schiariscono la pelle perché appunto si pensa che una pelle chiara ti permette un livello maggiore di accettazione ovviamente con dei danni devastanti perché ovviamente sono sostanze nocive quindi sicuramente nell'ambito di quel brevismo che va per la maggiore che è tipico dello slogan politico dove sembra quasi che ragionare sia una perda di tempo quindi ovviamente nella comunicazione breve anche attraverso i social è facile arrivare subito a identificare la causa di un presunto male eccetera eccetera quindi sicuramente la propaganda è una propaganda che oggi passa attraverso questi strumenti però vi farei anche riflettere sul fatto che la propaganda non è un'invenzione di oggi la propaganda prende forma e si sviluppa congiuntamente col marketing qui dovremmo riflettere sul fatto che la grande industria del marketing che sostanzialmente cosa fa il marketing ti fa sentire di aver bisogno di qualche cosa di cui non hai bisogno ma la cosa interessante è che lo senti tu quel bisogno e quindi gioca sulla tua libertà di sentire quel bisogno perché il marketing non vuole apparire in positivo ma la propaganda si è sviluppata in modo sistematico attorno ai due conflitti mondiali quando si tratta in qualche modo di costruire persone votate a farsi uccidere costruendo un certo tipo di narrazione perché si pensava appunto che mancasse volontà mancasse comunque volizione quindi si trattava di capire come far muovere gli esseri umani oggi nel tempo della velocità nel tempo in cui non abbiamo sembra quasi che non siamo più disposti alla sosta ma tra un punto di partenza vogliamo subito vedere il punto d'arrivo è evidente che questo tipo di comunicazione va per la maggiore ha come dire un peso enorme faccio un esempio e poi mi fermo e quindi lo faccio non mettendo in causa il negativo ma il positivo tutti noi siamo sollecitati da forme di comunicazione di tipo pro sociale ad esempio per cause importanti la fame in Africa eccetera eccetera ok come funzionano spesso questi dispositivi pensate a una casalinga che si alza al mattino ha un po' sovrappeso e c'ha la ciclette davanti al televisore accende il televisore sente le notizie del mattino e spesso passano delle campagne fatte appunto per la fame in Africa eccetera eccetera vengono mostrate come dire immagini di persone denutrite e così via si mette sulla sua ciclette bella volenterosa si commuove da quello che vede in pancia della tv compare il numero del cellulare a cui mandare un messaggino che porterà i due euro per la giusta causa e lei che cosa fa ovviamente vede questo messaggio è una persona di spirito aperto manda il suo messaggio e continua a correre sulla sua ciclette quello che questo messaggio fa e vi faccio riflettere non fa pensare che c'è un rapporto tra quella fame nel mondo e la sua ciccia in eccedenza bisogna pensare a quello che è legato e che solitamente viene percepito come slegato anche i messaggi pro sociali spesso sono delle scorciatoie si chiamano delle euristiche a livello cognitivo che non ci fanno riflettere attentamente direi che hanno risposto allora passerei la parola ai ragazzi se invece da Roma man mano che i ragazzi pongono le loro domande hanno altre domande o questioni da porre possono farle comparire sul nostro schermo allora passo la parola allora alle ragazze della terza B Santoro buongiorno a tutti allora noi abbiamo fatto delle riflessioni sul libro di Zanferini violenza e democrazia perché nel percorso di Biennale siamo stati colpiti dal tema della rabbia e della violenza che sono temi che sono emersi tra di noi e che sono apparentemente non visibili comunque c'è rabbia e violenza apparentemente non visibili come citata nel suo libro abbiamo delle domande perché alla violenza viene attribuito un colore perché la violenza bianca viene considerata più violenta di quella rossa quali conseguenze comporta la violenza bianca nella vita quotidiana e si può uscirne completamente rispondiamo a questo poi perché questi sono proprio per lui allora dunque diciamo subito che la violenza per dare anche probabilmente a tutti i presenti questo uso metaforico rossa o bianca indica semplicemente una violenza che potrebbe essere tipo fisico sanguinaria quel tipo di violenza che produce a livello anche somatico di segni fortemente visibili la violenza chiamata bianca è quella violenza più subdola può essere una violenza strutturale legata a un certo tipo di leggi esistenti può essere una violenza simbolica il razzismo è una forma di violenza simbolica può essere una forma di offesa nei confronti dell'altro senza toccarlo pensate ad esempio alle tante forme di violenza che si consumano in luoghi di lavoro in cui si tolgono competenze si tolgono mansioni si fa una sorta di mobbing come si chiama appunto in gergo privando la persona del suo mondo allora siccome io mi occupo soprattutto di violenza nei sistemi democratici nei sistemi democratici si tende sostanzialmente a evitare nel limite del possibile la violenza rossa quella sanguinaria perché chiaramente è quella che ha una maggiore visibilità ma anche facilmente in qualche modo come dire anche sanzionabile molto più complicato è invece affrontare il tema della violenza bianca quella invisibile quindi l'idea di fondo è che dovremmo sempre più essere molto attenti a questo tipo di versante di violenza perché è una una violenza che è come dire non lasciando segni crea anche nelle stesse vittime il problema del potere se riconosciute come vittime quindi come dire ha un aspetto molto molto sottile pensate appunto agli insulti pensate alle vicende di quella ragazza che si è suicidata perché sulla rete è stata messa alla berlina non dico altro perché non posso dirlo da parte di altri compagni questa è una classica forma di violenza bianca cioè nessuno le ha fatto nulla però il senso di vergogna il senso di come dire di privazione il senso di offesa che come dire faceva fatica a trovare una sponda verso l'esterno perché come fai a riconoscere che tu stai soffrendo per questo tipo di avvenimento quando noi sappiamo a livello appunto anche scientifico un sacco di studi lo dimostrano che la violenza virtuale fa male anche se è virtuale quindi il tentativo proprio è quello di essere consapevoli che le forme della violenza sono tante bisogna essere anche in guardia rispetto alle proprie forme di violenza che spesso possiamo mettere in atto e potremmo anche non essere consapevoli oggi dentro la democrazia questo tipo di violenza è fortemente pervasiva e non è assolutamente completamente riconosciuta grazie passiamo ora la parola alla Quintè buongiorno noi durante il nostro percorso abbiamo fatto varie riflessioni riguardo i vostri libri in particolare adesso mi riferirei a quello sull'indifferenza di Zamperini dunque durante le nostre riflessioni è venuto fuori che per noi l'indifferenza è uno dei più grandi mostri di tutti i tempi ecco noi vorremmo una riflessione riguardo a questo in particolare riguardo al confine tra indifferenza e colpevolezza grazie io voglio fare un'osservazione probabilmente linguistica non mostrizziamo anche voglio dire l'indifferenza cioè voglio dire c'è un certo come se avessi la sensazione c'è un certo abuso della parola allora il vero problema secondo me dell'indifferenza di fronte alla crudeltà eccetera eccetera è che è grigia che è difficile definirla è che è fatta di omissioni non di azioni ci si volta dall'altra parte di fronte a qualcosa che ci coinvolge ma che da cui non vogliamo essere coinvolti quindi bisognerebbe secondo me escogitare un linguaggio meno forte meno è come prima la domanda che adesso io mi scampio non le voglio non sia una critica ma l'idea di vaccinarsi da qualcosa comporta il fatto che siamo di fronte a un virus quindi bisognerebbe come dire demidicalizzare molti di questi discorsi quindi io penso che una delle cose che si è emersa stamattina è il carattere artificiale proiettivo della nozione di mostro che molto spesso noi tagliamo noi voglio dire perché siamo tutti apparteniamo come dire alla stessa tribù umana tendiamo a utilizzare la parola a mostrizzare scusate l'eologismo in mancanza di riflessioni in mancanza di riconoscimento di strade più tortuose è una tendenza che abbiamo tutti voglio dire io ho idee piuttosto forti sull'attuale ministro degli interni però cerchio di evitare e come voi capite bene non particolarmente positivi direi negative fino all'estremo ma mi sforzo di non usare mai in quello che scrivo espressioni che lui userebbe contro invece quelli che la pensano come me perché il problema non è solo legato al fatto che siamo di fronte a strategie politiche basate sul consenso e probabilmente all'indifferenza assoluta emotiva rispetto alle questioni ma siamo di fronte anche alla strumentalizzazione di certe espressioni eccetera per cui ecco demonstrizziamo demidicalizziamo usiamo semplicemente la nostra frutta linguistica per definire le cose come ci sembra che siano attraverso il linguaggio ordinario esatto è una questione è una critica ma di entrarci in questo tempo aggiungo un attimo così metto in cuore perché siccome anche tu avevi scritto appunto un libro su indifferenza quindi per quello che ho fatto ma non per sottrarmi alla domanda ci mancherebbe aggiungo solo due cose che Alessandro diceva una cosa importante l'omissione l'omissione è una anche delle forme con cui si sostanzia la violenza oggi quella bianca nel senso che non facendo le capacità che noi abbiamo a livello individuale di disimpegnarci rispetto a quello che sta accadendo sono molto più alte vi faccio un esempio molto semplice se vi capita di andare in un bar e consumate una colazione poi vi chiamano gli amici pagate uscite mettete un attimo il resto in tasca e vi rendete conto che il barista vi ha dato un euro in più che fate tornate indietro no ok difficilmente si torna indietro è corresponsabile quel barista dovete essere più attenti insomma cavoli soi no invece se voi siete allo stesso bar e dovete pagare la consumazione ma il cliente precedente ha lasciato nel piattino un euro allungate la manina e lo prendete molto difficile qualcuno dirà di sì ma ma io credo che sia molto più difficile allungare la manina a prendere l'euro se ci pensate il barista ha lo stesso danno uguale l'entità in gioco è la medesima però in un caso voi non avete fatto nulla e vi portate via questo euro in più nel secondo caso dovete fare un'azione dovete prendere quella monetina difficilmente fate questa azione quindi è evidente che il tema appunto delle omissioni è un tema centrale direi che oggi forse se semplificando il discorso se c'è un problema è che forse oggi l'indifferenza è diventata una norma mentre l'indifferenza spesso è vista come una sorta di mostro di qualche cosa che è una una moralizzazione di una distanza in qualche modo tra noi e gli altri però ho come l'impressione che oggi paghi essere indifferente senza ovviamente chiamarci indifferenti e paghi ad esempio la cultura del fatti fatti tuoi non immischiarti siamo in un mondo in cui ci viene detto che paga non occupandoci delle cose degli altri ma attenzione a me pare che qui stiamo disertando dalla vita collettiva siamo dei grandi disertori il problema è che ovviamente dobbiamo impicciarci delle cose collettive mentre invece come dire un certo tipo di narrazione ti dice prendi cura della tua proprietà del tuo io ti permetto di fare tutto l'importante è che non cambi nulla e questo è molto pericoloso sull'indifferenza scusate sull'indifferenza volevo aggiungere solo un piccolo un paio di piccolissime riflessioni allora sarà capitato a molti di noi voglio dire di andare in un bar eccetera eccetera all'aperto magari quando arriva il questuante che può essere italiano può essere straniero può essere un rom eccetera 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 allora le reazioni allora io sto in una città io vivo in Sicilia vivo a Palermo per lo più dove la questione è abbastanza più complicata non voglio fare discorsi sciocchi del tipo lì il razzismo non esiste esiste come perché mi massacrano di botte i loro neri anche loro però nella vita diciamo di relazione con l'aperta per le strade la situazione è meno complessa è più fluida di quanto non la darebbe a Verona mettiamola così ecco lì io penso però che a me è capitato molte volte di vedere allora ci sono tanti modi in cui il titolare dell'esercizio reagisce a questa cosa ci può essere quello che dice e vabbè dai però adesso vieni che sto lavorando ci può essere quello io l'ho visto ma non a Palermo ma in altre città in cui pigliano per il coppino come si dice e lo cacciano ecco lì bisognerebbe imparare a dire e creso signore al barista io in un locale che io adotto questi sistemi non metterò più piede è faticoso è scocciante in un certo senso io capisco anche guardate non vorrei essere fratteso ma mi metto anche nei panni voglio dire di quello che ne vede arrivare 20 al giorno però bisognerebbe abituarsi a reagire in questo modo e questo mi riferimento è un bellissimo esempio che mi pare sia tratto che c'è riportato in un libro di andare anche al Berkhamus no 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 scusate René Char un famoso poeta francese da me molto amato durante la guerra durante l'occupazione tedesca cominciò a parlare con qualcuno il quale gli offrì una sigaretta e poi mentre questi viaggiano quello che gli ha offerto la sigaretta risulta essere un filo tedesco e quindi un filo un seguace del regime di Vichy allora cosa fa René Char non dice niente ma quando scendono dal terreno dice e creso signore considerato quello che lei ha detto le restituiscono la sigaretta e questo ecco questi piccoli esempi secondo me non voglio fare moralismo sul piccolo gesto però bisognerebbe un po' imparare adesso anche a dire di no e a sollevarsi minimamente anche di fronte a gesti di questo tipo noi volevamo fare altre due domande in seguito alle riflessioni sul libro di Dallago non persone la prima è secondo lei qual è la causa del clima di intolleranza che respiriamo attualmente in Italia e nel mondo ma la domanda era un milione di dollari no scusa sarò full mio non voglio rubare no io il libro l'ho scritto nel 1999 e poi è stato ristampato la cosa tragica che non è cambiato assolutamente nulla ma che è orribilmente peggiorata le cause sono innumerevoli in preparazione secondo me anche strumentalizzazione politica molte cose che oggi leggete sui giornali si leggevano già allora quando gli immigrati erano i migranti che magari come volete erano l'1% o il 2,5% della popolazione mentre oggi si aggirono intorno al 7 o l'8 non è cambiato nulla sono reazioni che hanno a che fare con vari meccanismi ma hanno a che fare anche con con paure comprensibili cioè la mia mamma che è morta più di 20 anni fa viveva in un quartiere di Milano in cui ogni tanto c'erano delle ragazze nigeriane credo che diciamo lavoravano di notte sotto a cui tranquillissime molto spesso come voi sapete piccola sociologia spiccia laddove c'è prostituzione di strada spesso il disordine è puramente apparente perché le persone che lavorano in strada hanno tutto l'interesse che la polizia non arrivi eccetera eccetera e mia madre era in casa era a letto era bloccata a letto da una malattia degenerativa e io andavo a trovarla e lei diceva ma mamma cos'è che ti preoccupa e lei diceva i negri dico ma cosa non li hai mai visti e no però mi dicono che le mie amiche no è così che nascono che nascono queste leggende metropolitane che poi diventano però lei non ha mai visto non conosceva le ragazze nessuno non usciva di casa quindi nessuno avrebbe potuto aggredirle però lei viveva in questa specie di nuvola sottilmente paranoica per cui c'erano i negri sotto casa che la minacciavano che si fa di fronte a questo c'era una pazienza infinita bisogna smontare 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 raccontare cercare i fatti analizzare i dati è un'impresa disperante ma insomma non c'è molto di più da fare invece l'ultima domanda è coloro che vengono definiti i mostri della società sono veramente delle figure negative oppure vengono definiti tali perché la società non riesce a cogliere la loro essenza passiamo poi se è meglio che rispondi tu se i mostri della società beh diciamo che l'occidente ha avuto tre grandi tre grandi figure della minorità di cui qualcuna le abbiamo ovviamente tutte quante oggi in casa nostra il primo era il minore il bambino era considerato appunto una minorità perché appunto mancandogli un certo tipo di sviluppo era sottoposto a patria potestà il migrante un tempo era il primitivo poi è diventato appunto il migrante e la terza figura qui mi sono molto caro perché l'ho studiata a lungo era il folle tutte queste tre figure in qualche modo hanno rappresentato delle figure che diversamente nel caso della nostra cultura a cui abbiamo cucito determinati abiti ad esempio attorno al folle abbiamo cucito ad esempio l'ambito della pericolosità sappiamo invece che tutti i dati epidemiologici statistici smentiscono assolutamente questo dato chiaramente sappiamo bene che il tipo di rappresentazione mediatica che viene prodotta sistematicamente fa sì che un certo tipo di episodio con me sono una persona che ha dei disturbi mentali conclamati e poi viene sempre vista come una sorta di come dire esposizione di aver sbagliato perché questa persona doveva stare in un posto protetto e non invece stare in un contesto pubblico quindi sicuramente quando vi dicevo in apertura che il mostro ci dona la nostra come dire normalità vuol dire che mette in gioco tutte quelle categorie che per noi sono fondamentali e direi che oggi il tema della sicurezza di sé è quella categoria che permette di costruire tanti mostri e qui forse andrebbe capito qualche cosa che i mostri che ci inventiamo non sono mai all'altezza delle nostre paure e quindi continueremo sempre a costruire altri mostri e forse sarebbe giunto il momento di fare conti anche con le nostre paure senza dislocarle verso l'esterno da Roma ci domandano anzi vi domandano se in questa fase storica le stesse istituzioni siano percepite come mostri le istituzioni stesse siano percepite come mostri o meno quali istituzioni ragazzi se riusciamo a avere una facciamo un esempio se si può da Roma anche perché il termine istituzione è enorme allora mentre attendiamo la risposta questa avevano anche sì sì l'ultima mentre attendiamo solo questo chiedevano anzi scrivevano concordiamo con il professor Zamperini che non si possa ridurre a livello biologico la lettura dei nostri comportamenti come possiamo educarci a leggere chi siamo senza censurare una parte di noi e la risposta alla domanda che avete fatto è istituzioni politiche adesso ce l'avete no va bene spondi tu scusate che sei le politologhe sono un filosofo guai a mai no 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 scusate così loro riposano la voce le istituzioni sono state tra virgolette inventate se si può dire così per difenderci dai possibili contenuti e occupazioni da mostri o da persone come dire indegne e pericolose adesso da un punto di vista politico le istituzioni servono come dire a far funzionare una convivenza che ha come sempre una conflittualità che implicita il problema è quando le istituzioni diventano i motori di quella conflittualità e la producono e la inventano e la proiettano allora in questo caso forse non sono neanche più istituzioni il problema è questo forse non sono neanche più istituzioni perdono proprio significato come dire che avevano e che dovevano avere e senso che dovevano avere quindi forse più che chiedere se le istituzioni sono mostruose il problema è esistono ancora le istituzioni sì da una parte e dall'altra è il caso che alcune che non siano alcune istituzioni a produrre loro i mostri cioè è capito cioè il problema è quello voglio dire che lei dice giustamente le istituzioni sono state progettate sono sviluppate nel corso dei secoli per proteggere diciamo attraverso il sistema dei diritti delle garanzie eccetera eccetera il problema è quando le istituzioni producono non so giusto per non fare esempi di casa nostra quando l'attuale presidenza degli Stati Uniti cerca di convincere i suoi concittadini che torme di migranti poveri dall'Hondura tra Costa Rica poi dal terreno poche migliaia premono al confine meridionale degli Stati Uniti pronti a irrompere nel non so bene dove perché c'è il deserto di Sonora che è piuttosto grande noi la conosciamo abbastanza bene quella zona allora ecco in questo caso è l'uso spericolato di cui abbiamo piccoli esempi minori anche da noi e distorcente quando le istituzioni producono loro i morti a fili di consenso questa è la situazione peggiore che ci possa essere in una società contemporanea democratica perché è difficile difendersi cioè quando quelli che sono il cui compito dovrebbe essere quello di calmare le ac mantenere l'ordine sociale non solo materiale ma anche simbolico producono loro l'accelerazione dell'ordine simbolico allora è veramente preoccupante vuoi dire qualcosa perché ci costringono a chiudere la seconda domanda ma la dico in un minuto quando la domanda come possiamo prenderci cura delle parti nostre interiori ho inteso bene sì cioè nel senso come possiamo educarci a leggere chi siamo senza censurare una parte di noi ecco benissimo io credo che è quello che abbiamo fatto oggi io credo che il tempo della formazione e voi avete un grande vantaggio avete professori competenti che vi offrono anche occasioni come questa io credo che la scuola debba essere sottratta ad un ottuso tecnicismo e restituita alla formazione della persona che vuol dire anche fare i conti con le proprie parti appunto interiori con i propri conflitti interni e esterni è solo così che si può crescere non c'è un'altra non c'è una formula magica che permette di superare alcuni passaggi e come dire è viaggiare nel viaggio della vita e si apprende appunto viaggiando grazie bene vi saluto vi ringrazio e auguro grazie a tutti auguro a tutti di essere dei mostri felici grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti